Non lo devo dire io, non lo devo dire perché sono suo amico, ma ti faccio i complimenti perché conoscendoti e conoscendo la difficoltà oggi di una rappresentazione simile non è assolutamente scontato il risultato finale, il fatto è che comunque noi l'abbiamo visto, io l'ho visto già due volte, sullo schermo è un film e faccio i complimenti ad Angelo Bassi perché ci ha creduto da imprenditore, non da sovvenzionato dello Stato, non da insomma da squalo del cine panettone, ha spinto un'opera carina, un'opera carina fatta da comici entusiasti, da bravi attori con una sceneggiatura che comunque fa pensare, bravi Big One per la colonna sonora, belli no, ma bravi sì. Brava la Cristina come invece che si è buttata e tiene, tiene Cristina, ti faccio i complimenti che... quindi io volevo solo rappresentare, ho voluto rappresentare anche il mio stato d'animo così di comico, di persona del mondo dello spettacolo che si mette nei panni di un giovane sceneggiatore che viene da una realtà forse un po' più semplice che cerca comunque di dire qualche cosa e la sua toscanità, perché è il filo conduttore un po' di questa opera corale, viene compressa un pochettino a favore del contenuto generale che poi sta a ciascuno di noi interpretare. Quindi io li ringrazio, se volete fare qualche domanda sono qua con loro. Se c'è qualche domanda loro apprezzano. Sì, volevo sapere come nasce il progetto, di chi è stata l'idea iniziale, perché questo tema che è estremamente di attualità e poi soprattutto dopo le aperture, diciamo, di Papa Francesco di questi ultimi giorni che lasciano sperare perché siamo molto noi italiani poi agganciati al Vaticano, quindi se c'è un'apertura di là si può sperare un'apertura anche di qua, perché cosa pensate di questa realtà? Allora guardi, il progetto è nato quando ancora non si parlava di questo tema, cioè era un tema, c'era questo muro invisibile che comunque teneva gli atrosessuali da una parte e gli omosessuali dall'altra. Mi è nato questa idea perché io una sera a cena con un mio amico gay a casa mia, io due bimbi, i bambini stavano facendo una confusione incredibile, parlo toscano eh signora, brava, facevano un casino incredibile e io a questi bambini mi sono girato e ho detto ora basta state rompendo, basta state rompendo eh, lui si è girato verso di me, i bambini si sono fermati, si è girato verso di me e mi ha detto ce li fai rimanere male, ho detto ma lo vedi che fanno un casino e non si può neanche parlare, lui mi ha detto beato te che puoi avere dei bambini e non potrai avere né dei bambini né una famiglia. Io lo guardai e dissi oh sai che ti ci scrivo un film su una cosa del genere e cominciai a scrivere questo film, era lontanissima l'idea di apertura e cose del genere e poi devo dire che ultimamente c'è questa mano che ci sta arrivando dall'alto e io trovo l'apertura della chiesa bellissima, trovo che ci sia una cosa stupida che stanno facendo al governo che è questa legge sull'omofobia, la legge sull'omofobia non serve, non serve dare un anno a chi dà uno schiaffo a un gay o a una lesbica, serve insegnare ai bambini con l'educazione civica fin dalle scuole, dalle prime scuole, dalle elementari che esistono vari tipi di famiglie, esistono babbo e mamma, esiste la famiglia allargata con magari due babbi e due mamme, esistono anche famiglie che si vogliono bene di uomo a uomo e donna a donna, basta insegnare questo senza fare leggi, piano piano arriveremo anche al rispetto della parte che si suol dire diversa e invece non è per niente diversa. Poi mi faccio le domande da solo, ho voluto un cast di persone che io avevo scelto nonostante Angelo avesse insistito per dirmi guarda cambiamo qualche attore perché magari non sono famosi, non sono conosciuti, io avevo scritto le parti direttamente su questi attori perché li conoscevo e cambiare attore significava dover riscrivere la parte dall'inizio. Cristina l'ho conosciuta in un film che è Dieci ragazzi, un film diretto da Tessa Bernardi con Alessandro Paci che poi ho ripreso qui, che mi ha chiesto esplicitamente farmi una parte drammatica, nonostante non sia una parte eccessivamente drammatica, comunque Alessandro Paci di solito è quello che fa il casinista o il battutaro, qui fa la parte un po' particolare. Cristina l'ho scelta perché è una bella ragazza in primis, ma ha una faccia bella che si presta a essere anche triste. Allora siccome questa doveva essere una ragazza innamoratissima dell'uomo con il quale viveva, ma doveva soprattutto essere una ragazza che piano piano andava rattristendosi perché vedeva che sì l'uomo era innamorato però le dava soltanto bene i materiali e mai un bene fisico che può essere anche un bacino, ho scelto lei, devo dire che ho scelto bene, se volete sapere tutto non me l'ha data, quindi durante il film né prima né dopo, ma è importante questo, è qualcosa da sottolineare, ma la speranza è l'ultimo amore. Questa è la loro ironia reale, poi dopo io nella sceneggiatura ho notato che si sono molto contenuti, hanno sottratto, hanno sottratto, il tanto che alla fine il risultato un po' strano per voi che li conosciamo, io soprattutto li conosco come comici, come persone ridanciane, proprio portatrici di questo umorismo toscano spesso su questi temi esasperato, ma anche a volte esasperante, per me è stata una sorprende, che Graziano abbia scritto un film che alla fine posso dire mi ha commosso, i temi che lui ha lanciato sono i temi che tutti noi stiamo vivendo giorno per giorno. Quando esce, in quante coppie se... Questo viene a che fare con quell'uomo laggiù, ma... Angelo in quante coppie esce, se ci senti, Angelo! No, perché è soldo, lui non lo sente, fino a solo visto, è un po' soldo e quindi per questo la può dottare. No, è il 26, giovedì, giovedì prossimo, 26 settembre, con circa un 22-23 coppie. Ha già... Ha già... Ha già coppie, una scommessa che noi facciamo... Vogliamo vedere quanto rimettiamo, come scusa? No, vogliamo vedere quanto rimettiamo con 26 coppie. Sta male, comunque, Angelo sta male, lo vedete. Se non male, non mancano 26 coppie. Dopo questo film. E se va bene, forse poi ci allardiamo, con la speranza di averne di più, insomma. Ci siamo concentrati molto sulla Toscana, in Toscana usciremo con circa 8-9 schermi, e poi il resto è un po' di tutta Italia, ecco. Graziano, un grande film, voglio dire, un grande film d'amore come questo, con una colonna sonora un po' particolare, un po' fuori dagli schermi, per certi versi. Come mai? Come pensate il Big One, sarà un certo tipo di... Dunque, io vi dico a me, a me i Big One non mi hanno presentato e non mi piacevano. Io vi dico come stanno le cose. Ho sentito la musica di Big One andando a Milano, e la prima cosa che ho detto, ho detto sì, però questi sono troppo rocchettari. Poi dopo ho parlato con Renzo, e Renzo ha detto, Graziano non ti preoccupare, faremo delle musiche, poi hanno cominciato a mandarmele, mi piacevano, e quindi ho inserito loro perché mi sono piaciute veramente. La musica è un po' come, che ne so, è un po' particolare, è vero, però la musica secondo me in un film deve essere come nei Promessi Sposi, il Manzoni, quando inizia a raccontare prima l'ambiente e poi arriviamo al personaggio. Dalla musica uno comincia a capire già che scena c'è e come sarà il personaggio, magari la scena successiva. E loro mi sembra che siano riusciti a fare le scelte. E poi come in un film che da tempo non apprecia tematiche di questo tipo in questo modo, anche la musica deve essere fuori dagli schemi. Penso che sia azzeccatissima la cosa. Da conduttore radiofonico vi dico che questa scelta non è per niente banale e scontata, cioè si potevano scegliere le musiche dell'ultima estate, come fanno molti colleghi di Graziano, si potevano scegliere colonne sonore internazionali, oppure mettere degli uns con un bravo, musicista di film. Invece loro sono le rock star che fanno le ballade romantiche, cioè proprio come i grandi gruppi americani sono molto bravi nella ballade, cioè la ballade struggete. E in questo devo dire che nonostante il nome non sia ancora tra i più conosciuti, l'intreccio sonora di Big One in questo film ci sta. Sì, sì. Ci sta. Ci sta, ci sta. Cioè Rocchettaro qui in questo caso è più struggete che un melodramma alla Verdi. Invece un'altra scelta diciamo particolare è il ruolo della Chiesa, che di solito è molto critica in questi problemi, insomma diciamo, e invece nel film è molto partecipativa. Diciamo che avendo un rapporto con, ma Francesco mi aveva già detto che avrebbe aperto un pochino, allora io ho mandato la sceneggiatura, no ho usato, dai ho usato, ho usato questa cosa qui, guarda che la prima stessura della sceneggiatura, io ho portato, allora la sceneggiatura è mia, ma la parte della Chiesa che avete visto è di questo signore che sta recitando, che si chiama Mario D'Imporzano. Mario D'Imporzano è un grandissimo fumettista, vignettista del Brenna Coliere. Quando ha visto la mia prima sceneggiatura mi ha detto questo film non uscirà mai, perché avevo messo delle cose leggermente pesanti. Lui mi ha detto prova a scriverti qualcosa, io l'ha scritta, io ho detto lasciala così, dice ma non è troppo, lasciala così. Ma la Chiesa è accondiscendente, lasciala così perché io sono convinto che prima o poi arriveremo, cioè se la Chiesa non vuol veramente chiudere le porte da tutte le parti deve un pochino aprire. E poi comunque la frase più bella che ho sentito negli ultimi credo 20 anni è stata quella di Papa Giovanni quando ha detto chi sono io per giudicare un omosessuale. Questa è una delle frasi più belle che possa essere sulla terra e ringrazio Papa Francesco che ha detto questa cosa. Io ho osato e che ne so, ho forse avuto la fortuna di vedere questa apertura della Chiesa proprio in questo periodo. Sì, qualche impressione ci farebbe piacere. Cioè Graziano ci ha messo tutto se stesso in questo film anche materialmente, la Cristina ci ha messo a tutti la faccia. Ci piacerebbe sapere da questa proiezione qualche impressione calda, appassionata, anche di critica. Questo ci interessa perché è un'opera prima e soprattutto c'è trepidazione sul fatto che sia passato più l'aspetto della commedia o più l'aspetto del messaggio. C'è qualche d'uno? Se la sente? Non vorremmo avere una clac. Cioè in questa presentazione non si vorrebbe avere una clac di amici che dicono bello, bello. C'è un po' di attesa perché c'è un investimento che secondo me è anche morale su questo film. E oggi è di attualità. Personalmente temi di questo tipo, voglio dire, negli ultimi tempi dappertutto. Dappertutto. Si se ne parla, ma forse Graziano ha accorto un aspetto meno spettacolare della cosa, quello più intimo, quello più intenso, ecco perché da questo punto di vista secondo me è un film molto bello. Quindi il film ti è piaciuto? Personalmente sì. Inizialmente, inizialmente... Come ne parlerai? Inizialmente devo dire un po'... Ci devi entrare. Ci devi entrare. Però non ho entrato... Ci devi entrare, sono d'accordo. Ma via liscia. Altre opinioni? Oh ma senza problemi. Sì no, so. Anche persone che invece... Prego. Io volevo fare una domanda. Volevo chiedere a Graziano come ha pensato a Fonu di raccontare queste due coppie. Perché queste sono due coppie molto spaventate. Cioè vorrei capire, ma il giornalismo secondo cui possono arrivare a pensare a sposarsi tra loro per avere un bambino? Cioè inizialmente una dimensione leggermente metafisica, proprio realistica, no? E no. Cioè più un sogno, più una tavola moderna voleva essere... Allora, io conosco varie coppie di persone che comunque diciamo che si sono sposate per la famiglia, perché la famiglia a un certo punto vede che un figlio è gay, che è omosessuale e cominciano a premere, a battere i piedi, dai sposa, fatti una famiglia, spose... Perché è più la paura di far vedere agli altri che hai un figlio omosessuale piuttosto che pensare che lui in quel momento sta soffrendo. Per cui ci sono tante persone che si sposano e magari fanno i figli anche contro voglia per far vedere agli altri di essere una famiglia etero. Ora io porto sempre un esempio, ve lo dico tanto, è un esempio... I toscani sono fatti così, purtroppo ve lo devo dire. Allora, se io e un mio amico Roberto o lui partiamo per andare, per venire a Roma, ci fermiamo in un bar, sicuramente noi se ci fermiamo in un bar e arriva il barista e chiediamo il caffè, il barista ti guarda, ti va corretto o normale? Dicono, guardi, è normale. La prima cosa appena usciamo, appena usciamo dal bar è questa, la prima fase è questa, qui non ci si ferma più chissà cosa ha toccato prima di fare il caffè a noi. Se a ritorno ci fermiamo in un bar dove c'è una bella barista con uno scollo fino a qui, uno scoscio enorme che si vede in mezza mutanda, la prima cosa appena usciamo, la prossima volta ci fermiamo lì. Ecco, questa è la stupidità umana, soprattutto dell'uomo, perché potenzialmente chi ha toccato più roba, lei o lui, sicuramente lei, però noi ci fermiamo da lui. Allora, molte persone per non far vedere di essere omosessuali si sposano e magari stanno male una vita, perlomeno loro stanno male una vita perché comunque nascondono la loro omosessualità agli occhi degli altri, anche se qualcuno poi lo scopre, però nascondono la loro omosessualità per avere poi un progetto che è quello di avere dei figli che purtroppo nella situazione in cui siamo in Italia le coppie omosessuali non possono avere. Questo, non è che ho inventato io, le coppie che si sposano così ce ne sono, lo dico perché magari poi qualcuno ci ha insegnato, no, no, io ho soltanto ripreso dalla vita reale quello che è successo. Però loro decidono dopo parecchi anni di avere dei figli, di voler avere dei figli, quindi prima erano già due coppie di fatto e mi sembra che adesso sia abbastanza aperto questo fatto di avere comunque delle coppie omosessuali non più come prima. E quindi perché si nascondono tanto? Perché lei vive a Roma, signora. Come? Perché lei vive a Roma. Se vivesse in un paesino, le lo dico perché volutamente la storia è stata ambientata in un paesino, perché se uno vive in Roma e sei omosessuale non gliene frega niente a nessuno. Se sei omosessuale a Fucecchio dove abito io o a Massarosa dove sto attualmente, te vai a prendere il caffè e appena esci da prendere il caffè c'è sempre qualcuno che ha visto? Capace una va a pigliarlo di là ed è una cosa bruttissima. Perché comunque sei sempre abitato se sei omosessuale. Quindi è anche il fatto volutamente di farlo in un paesino, è questa cosa qui. Due coppie, una coppia omosessuale mano nella mano, io guardi, posso dire che a Viareggio dove abito attualmente, mano nella mano si vedono. Però comunque c'è qualcuno che gli dà fastidio questa cosa. E io non riesco a capire perché comunque, guardi che anch'io ero uno di quelli che diceva guarda mano nella mano, cioè proprio sono stupide. Però quando cresci cominci a capire che comunque l'amore veramente è una cosa strana. Perché io mi ero innamorato di una donna, mi ci sono sposato, poi mi sono innamorato da un'altra, allora l'amore perché poi finisce? Perché purtroppo può finire. Allora, può finire ma ne può nascere uno più grosso. E quindi io ho voluto fare questa cosa qui un po' strana e dare questa possibilità a questo film di poter aprire un attimino. Non lo so, però sì, è un po' un confusionario come film, lui ha ragione su degli errori, eccetera. No, questo lo dico per l'onestà dell'opera. Un'altra cosa che dico, ho detto al buon Graziaro, lui non ha la faccia dello stereotipo del protagonista. Cioè effettivamente i protagonisti maschili e femminili hanno altre facce nel nostro immaginario collettivo, quindi devo dire è andato giù in un modo un po' a mano di vanga, si dice da noi, cioè è un po' grossolano in questo, però la sua faccia nella sceneggiatura e la coralità dell'insieme, infatti giustamente dice la donna, sembra quasi un sogno, sembra quasi, cioè tu anche quando parli, non so se sei il protagonista, cosa vuoi raccontarmi, sembra un po' strano il tutto, però in tutto questo c'è una gradevolezza che oggi il cinema italiano che deve sempre trovare il tipo del genere, cioè tutte le volte noi dobbiamo trovare i generi italiani, loro sparigliano, sono dei comici, sono toscani, normalmente loro sputtanano tutto, diciamolo senza mezze parole, un tema delicatissimo di cui i più grandi registi, tra l'altro omosessuali, si sono occupati e non ce l'hanno fatta, ci fanno tenere su un tema così difficile, una commediola leggera che ha veramente tante leggerezze e tante ingenuità, ce la vediamo fino alla fine e alla fine, veramente complimenti grazie a parte mia, esci con il contenuto, cioè esci con quello che volevano dire, perché a molti dicevano, ma dai ma fate più battute, fate ridere, siete dei toscani, la gente con i toscani vuole ridere, invece questo testa di cazzo, glielo dico io da Emiliano, ha voluto portarci sul melò, che a volte nemmeno gli ultimi di Almodovar sono riusciti a scovare, nonostante Pedro sia il più grande cineasta del mondo, cioè ci è riuscito lui, le ultime opere di Almodovar invece sono scorse via come commediola divertente, con dei grandissimi, ma non ci hanno lasciato questo segno, è riuscito a darci una mezza zampata su questo tema che sta riguardando, penso oggi, tutti noi, quello che ha detto lui, quello che ha detto lui, quello che ha detto lui è effettivamente così, non so neanche io come ho fatto a tirar fuori questi temi, cioè lui stesso è un po' inconsapevole dell'opera che ha fatto, lui si è messo lì, fa un film corale, chiama i bravi attori, si mette anche di buona lena nel cercare le suggestioni, io la prima volta che mi ha detto il film di Graziano Salvadori, vado lì per farmi due risate, è un amico, sono i soliti toscani che si prendono in giro e alla fine mi ha tirato fuori, soprattutto nel grande schermo, soprattutto con queste facce un po' non credibili, un'emozione che spesso al cinema non salta fuori. Sono assolutamente d'accordo, poi c'è una cosa bellissima, che è quell'uomo che ride continuamente, quello che ha fatto, quello è stupendo, veramente dà un tocco particolare a tutto quanto, c'è quello che ride di tutto. E parlerà bene, sì. Sì, veramente lo trovate bene. Grazie Graziano, un momento in più. Allora io le ripeto, ci sono delle cose che mi fanno ridere, questo è un amico di mia moglie, questo è un ex poliziotto in pensione e lui mi fa ridere di continuo, lui è uno che lo guarda e inizia a ridere così, allora io ho detto, ma se tutte le volte che appare questo Franco Trentalance tu mi fai la risata, mi porti piano piano a farmi capire, come si dice in Toscana volgarmente, dice mandala, mandala, l'esatto te la trombano prima o poi, perché poi alla fine è quella. Allora io ho messo questo qui, devo dire che molte persone quando cominciano a guardare facciano questo, cazzo c'entra, poi piano piano si arriva alla conclusione e Cristina è la parte scatenante di questa cosa qui. Ora, poi passiamo a Cristina che è stata bravissima, la ragazza iniziale, la mamma col bambino, mi sarete tutti conto che probabilmente non è proprio, è una donna, è una donna, è una donna che ha vinto Miss Trans 2011 e io volevo un pochino rompere gli schemi fin dall'inizio, perché poi saremmo arrivati alla fine, per cui quando ho visto questa ragazza che si chiama Mary Foroni, io tra l'altro ero presente in giuria quando lei ha vinto Miss Trans 2011, io gli ho detto guarda, se faccio qualcosa ti chiamo perché sei particolare. Quando si è presentato questa idea qui di fare questo film ho detto no, bisogna che ce la metta e gli faccio fare la mamma col bambino, così andiamo proprio contro corrente al massimo. E lei ha accettato subito, come tutte le donne è noiosa, vi dico la verità, perché appena è arrivata questo vestito non va bene, il trucco non va bene, ha detto ascoltami, mettiti lì, peggio di lei, porta il passeggino e non dare più partidio più di tempo. E ora passiamo alla nostra Cristina, fantastica, una donna stupenda che non la potete vedere in piedi, ma... Allora, intanto con la Cristina ci siamo presi tutta la rosa del Milan, noi sappiamo il Milan, scusate, il Milan verrà a vedere, tutti, a noi sei piaciuto, no a me sinceramente l'avevo già visto il film, però oggi vedendolo qua, alla fine, alla fine del film veramente mi sono emozionata. E quindi, basta, ho già detto tutto. Nel senso che non mi ero mai emozionata come oggi nel vederlo, soprattutto nel finale, e quindi secondo me ci siamo. Se è una brava attrice ci vorrebbe una lacrima, pianto, anti-isterico, anti-isterico. La prepareremo, la prepareremo. Volevo ringraziare anche Novello Novelli che mi ha dato questa opportunità di poter fare questa cosa qui. Io quando l'ho chiamato ho detto, Novello, ho una particina per te nel film, me la fai, pennellone, e tu te l'ho fatto fino a ora, vieni. E allora abbiamo fatto questa cosa qui, siamo andati a casa sua, anzi volevo poi, comunque posso dire una cosa, io era la prima regia che facevo, e chiedo se la seconda, se la prima è l'ultima, se secondo come va il film, però voglio dire, devo dire che ci sono state le persone che mi hanno preso per mano e mi hanno veramente portato a fare il film. Una è Stefano Sabino, che è il miofonico numero uno, e poi Giovanni Cavallini, e anche, ma non perché è qui, è Massimo Santolini che ha avuto una battuta stupenda, mentre stavamo girando eravamo un po' di fretta, ho detto guarda io, adesso giriamo le macchine, facciamo i primi piani, la scena del fotografo, e una persona lì mi ha detto, dicevo, siamo di fretta, ti servono proprio, ho detto, ti serve, c'ho da montarlo, poi c'è neanche posso, e dice no perché siamo di fretta, ti servono o no? Il passato Massimo con un binario in mano gli ha detto, se lo vuoi mandare per radio no, è andato via, io credo sia una delle cose più belle, quindi grazie a queste persone che mi aiutano. Sì, ho avuto un po' dei problemi, perché in mezzo ai romanisti sono stata un po'... Siamo tutti, è sempre ben accetta. Io voglio fare i complimenti, perché la regia è, visto che tu diceva la prima, la seconda, è fatta molto bene, il film è molto bello, poi c'è quel tocco comunque di comicità che rallegra il film, c'è il momento della battuta, c'è il momento della risata, quindi diciamo che si tocca un tema molto forte, ma rispetto agli altri film che sono stati fatti sull'omosessualità, qui è più completo, perché non è solo su uomini o su donne, qui ci sono due coppie, quindi si prende tutto nel panorama, e questa è una cosa che secondo me è molto importante, perché soprattutto anche per tutti i ragazzi del film si capirà che non è solo uomini e basta, perché la maggior parte che si vede è l'uomo che dà più all'occhio, perché la donna, le amiche si prendono per mano da quando fanno le elementari, a quando fanno i bai, quindi fanno tutto il coppio, quindi l'uomo dà più all'occhio, qui si fa capire che c'è qualcosa di più forte. Poi vabbè, la scelta della colonna sonora di parte, quindi faccio i complimenti, perché hanno un sound molto profondo, ma quello che è ancora più profondo sono il testo delle canzoni, le parole che escono da quelle canzoni, sono veramente favolose. Poi ve lo faremo una domanda, come mai la scelta di ambientarlo esclusivamente in Toscana, solo di ambientarlo, se non erro. Sì, sì, no, come diceva la signora prima, ambientarlo in Toscana perché ho voluto prendere proprio un paesino per dare proprio questo spaccato del paesino piccolo che comunque prende in giro l'omosessuale. Poi in Toscana perché comunque io sono toscano e le coppie erano toscane, quindi ho voluto fare volutamente questa cosa qui. Per quanto riguarda la sceneggiatura che diceva lui, io se un giorno avrò la fortuna di poter pubblicare la sceneggiatura, vedrete che non ci sono battute dentro, perché sapevo di lavorare con dei comici come Niki Giustini, come Katia Beni, che sicuramente avrebbero accentuato e come si dice in gioco avrebbero messo le loro caccoline tutte le volte che c'era qualcosa da fare e da girare. Per cui io ho tolto quasi completamente le battute a meno che non dovesse essere proprio dal copione, perché tanto sapevo che sarebbero venute piano piano e molte sono venute anche piano piano. Domino Ikea che esce fuori all'improvviso quando sta comprando la cucina, cioè quella è una cosa molto simpatica che nessuno si aspetta in quel momento, che comunque porta a far ridere nel momento comunque centrale del film. È una guittata, va bene. Io per esempio la morte di Alessandro Paci non c'è nella sceneggiatura, cioè nella sceneggiatura c'è Alessandro che si suicida e si butta da questo muro. Il fotografo, mentre stavamo andando da una parte all'altra a girare mi disse in macchina, mi dice ma perché Paci che tutte le volte tira fuori questa carta di credito non lo fai suicidare tagliandosi le vene con la carta di credito? Io gli dice cazzo è bello, ce lo metto. No dai scherzo, no no ce lo metto. E allora ho messo il Paci che si taglia le vene con la carta di credito, fa tutto con la carta di credito e si taglia anche le vene. Ultima cosa che vi dico, in questa sua spontaneità non artefatta, non costruita c'è il film, c'è bello che abbiano scelto loro, è bello che siano quattro amici, che la presa diretta sia professionale, ma dietro comunque c'è un artigianato che non c'è più in Italia, si fa il film un po' come alla volta, lui non è che ha dietro stuoli di sceneggiatori, si è messo a fare un film con gli amici scrivendo, questo un po' deve essere anche la piccola attenuante che tutti noi dobbiamo concedere al buon Graziavo e anche al produttore quando vediamo questo film, io li ho messo subito in guardia, sì ci sono un sacco di incertezze, ma oggi fare un film è un'opera da pazzi, ma chi è che si mette a fare un film, a andare a investire soldi e chiedere ad amici e soprattutto fare un film che ha un tema? Allora in questo io un po' accuratamente, perché ci metto proprio la mia persona, dico Graziano grazie, grazie che ti sei messo sotto e che l'hai fatto perché alla fine è un'opera oggi nel 2013 difficile, cioè è difficile fare quello che hai fatto, quindi se ci fosse un po' di riscolto sarai contento per te. Allora io prima di mandarvi a mangiare sennò vi ghiaccia le pizze fuori, volevo però fare tre ringraziamenti, a parte i miei amici che ci sono già ringraziati, volevo ringraziare coloro che a zero euro mi sono dietro da due anni, che sono Roberto Di Varelli e Irene Tempestini, ufficio stampa factotum amici, poi voglio ringraziare Angelo Bassi che comunque ha rischiato in questa situazione, ha accettato il progetto e soprattutto coloro che ci hanno aiutato in questa cosa che sono NGM, che è facendo veramente, ha accettato in questa cosa qui, addirittura vi dico, è venuto a venire mentre stavo facendo un provino per scegliere qualche compasso, lui mi ha detto vieni da me che ti do i soldi, dopo 15 giorni mi ha richiamato e mi ha detto ma li vuoi o no? Mi ha detto, arrivo, dammi il tempo, che sono andato e mi ha detto io ti do questi, ti basta, mi fa bastare, siamo andati insomma se poteva fare i mesi meglio però, va bene comunque vi ringrazio tutti, è stato bello, se avete altre domande, buone eh, come quelle avete fatto finora, eccoci, questa è la mia parte, bella cosa, alla fine verso l'ordine del film, c'è il tradimento, cioè l'hanno letto Marco, ma sono andati, come pensi che era una cosa, un avvenimento che poteva essere spunto per dei rispotti interessanti alla fine del film? Perché alla fine del film? Perché di solito quando uno si sposa, non si sa bene come è andata, se sono stati perdonati, ma sicuramente non si sono perdonati, però non si sa bene come si arriva al perdono, insomma, dove si è interessato? No, si arriva al perdono perché comunque, ecco, mi ha dato male, perché di fronte all'amore dei figli si perdona tutto, se vuoi tenere la famiglia unita, anche se il marito o la moglie a volte possono fare il tradimento, però per amore dei figli rimani insieme e perdoni, però non è che tutti i giorni metti la sola caminetta in tavola, si perdona, e l'ho messo, sai perché? Perché di solito nelle coppie etero, ti spiego, nel coppie etero di solito c'è sempre una sera in cui vanno a giro fra uomini o donne, si ubriacano perché magari hanno bevuto un po' di più e quella è la scusa per andare a letto con qualcun altro, e poi quando trovo e dici, come mai sei andata, ciao, ero ubriato, sono andata con una, o se no ero ubriato, sono andata con uno, no, l'hai fatto perché lo volevi fare, perché o sei ubriaco da coma etilico e non fai nulla, soprattutto per gli uomini perché non c'è più, non ho mai provato, però me l'hanno detto, e quindi allora ho messo questa cosa qui perché loro comunque hanno fatto questa scena, si sono ubriacati, è comunque un'esperienza che uno probabilmente ha voluto provare, sono andato a letto e è successo questo, e comunque perché alla fine diciamo che mi serviva la terza, che era questa cosa qui, perché comunque quando ho iniziato a scriverlo erano soltanto due coppie omosessuali, poi mi sono accorto che sarebbe stato un film monochematico e ho inserito la coppia eterosessuale, la coppia eterosessuale doveva avere un risvolto comunque come la coppia omosessuale che c'era stato un tradimento e abbiamo un tradimento, e ho preso una che so che nella vita tradisce e ho scelto appunto che signore. Ora dobbiamo chiudere il malo modo. No, si scherza, mi sono le pizze, chiedete, chiedete, prego. Chiedete, appunto, siccome lei aveva scelto di trattare comunque un tema complesso per la sua opera prima, la rigenza quindi per lei era forte di trattare questo tema, non ha pensato magari per la sua opera prima di fare come sono molti da con lei i tonici di lasciarsi una storia più facile e quando avessi avuto più esperienza a trattare un tema come questo, da parte rigenza perché pensi che è un tema su ipocrisia ancora nella società italiana e hai voluto trattarlo? No, hai voluto trattarlo perché la causa scatenante è stata questo mio amico e poi perché comunque io noto che c'è veramente ipocrisia. Le posso dire che vivendo a Viareggio, Torre del Lago è stata ed è ancora una delle capitali del turismo gay, lì vicino c'è una strada dove ci sono i trans e le posso assicurare che è una strada che saranno 5-6 km, saranno 30-40 trans e tutti fanno, si va lì per prenderli in giro, si va lì, si piappe il culo e si viene lì, ma secondo lei questi trans stanno tutti e 30 lì o tutti e 60 lì per farsi prendere in giro o hanno un tornaconto a fine serata? Allora se stanno lì in 30-40 c'è un tornaconto, vuol dire che c'è questa ipocrisia di dire vado lì, li prendo in giro, poi però quando non mi vede nessuno vado e da lì le posso assicurare che nascono i cerchi nel grano, perché quando entrano nel campo una volta fatto tutto vanno via a marciandhiarro, fanno il cerchio nel grano e vanno via, se andate a Migliarino e fate le foto dall'alto ci sono i cerchi nel grano, è una cosa stupenda. No comunque è vero c'è molta ipocrisia per cui volevo combattere questa cosa, io ho molti amici omosessuali e ci sono delle persone che conosco bene, che ogni tanto quando mi vedono con gli amici omosessuali o trans ti dicono, ma poi va sempre al giro con loro, ma non è che anche te, ma cosa vuol dire? Perché se io vado al giro con lo zoppo, va bene che c'è il proverbio che dice se vado con lo zoppo impari a zoppicare, ma non è che diventi zoppo, se vai al giro con un gobbo non è che tutti diventi, no in Parlamento Andreotti ci è rimasto 60 anni da tutti i gobbi, cosa, no comunque voglio dire, il discorso è questo, quindi ho voluto veramente cercare di buttare giù questo muro, perché comunque questa persona che mi ha fatto scatenare questa cineggiatura è una persona a me molto vicina, la quale voglio molto bene, voglio che sia buttato giù questo muro di ipocrisia nei confronti degli omosessuali o anche dei trans, perché c'è questo muro proprio enorme che quando uno è gay c'è questa cosa che dice, ah però è gay, di già è gay, che vuol dire di già è gay? Scusi un attimo, è contento della risposta che gli ha dato? No, non ha capito mai, no perché c'è sempre questa vena surreale tua che mi diverte molto Non è una vena surreale, c'è una strada che si chiama Via Traversagna, ve lo dico, al confine con l'autostrada che va a Firenze, c'è questa strada dove ci sono la sera le macchine così ora è possibile che tutti vadano a prenderli in giro e loro stanno lì tutta la sera così a prenderli in giro, loro stanno lì perché quando vanno a casa hanno soldini in tasca e quello che ci è andato ha lasciato un cinquantino o un quindicino, ultimamente quella crisi è un pochino meno mi fa, ma non 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 mi fa te renda, te renda, te renda, vabbè però devo dire che nonostante tutto con Angelo abbiamo avuto tantissime discussioni, scozzi perché è normale che ci sia questa cosa qui, però io sono contento di aver fatto questa cosa, io spero vi sia piaciuta, vi dico soltanto che ci ho messo l'anima come ce l'ha messa Angelo, come ce l'abbiamo messa tutti, ci siamo litigati, ci siamo mandati a quel paese, ci siamo ritelefonati abbassando i toni perché sapevamo che comunque probabilmente era una cosa che poteva uscire in maniera giusta, spero di avercela fatta, il tema a ragione lei è un po' pesante, avevo anche altri film, un altro sempre scritti da me, me li scrivo da solo perché le spiego, in Toscana i comici Toscani e i registi Toscani non mi hanno mai chiamato, allora io me lo sono scritto da me, mi sono fatto anche il provino, mi sono piaciuto e mi sono preso, e allora ho deciso di, insomma avevo altri due film, uno si chiamava Le farfalle hanno ali per volare e l'altro era Parliamone, Parliamone è proprio un film da ridere all'inizio e alla fine e Farfalle hanno ali per volare tratta un tema pesante, però è più da ridere di questo, questo secondo me ho dovuto farlo così perché io quando ho visto il bizzetto mi sono divertito tanto, rivedendolo adesso trovo che adesso per la situazione in cui viviamo adesso il bizzetto è pesante, un po' verso i gay una pressa in giro un po' feroce, però è fatto da grandi professionisti quindi non si può dire niente, sicuramente se io avessi messo due o tre schecate sarei stato massacrato perché dice, ah prendi in giro i omosessuali, non era il momento di prendere in giro per cui ho fatto una cosina secondo me delicata anche perché voglio bene a questa persona, bene i fizzi. Dopo Pieragioni, Panariello, Benigni, la nuova frontiera della comicità toscana è passata a Graziano Salvadori perché così è riverente, dissacrate, io ve lo consiglio perché lui può grazie, grazie, grazie a voi.